Direzione Shard El Fekera Sono anche le formiche su su una Una formica che cammina Direzione Sud Sini Strandiamo No, 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 no. Ah, ballerà un po'. Ah, eccolo qua, la famosa antenna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie. 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 Ok, that's great. Ah, super. Chukran! Oh, yeah, it's good. Oh, yeah. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.